Buonasera, sento di dedicare questa canzone a tutti quei ragazzi che sono impegnati nelle missioni di guerra, missioni di pace, perché ogni giorno rischiano la vita e vivere da quelle parti è come tirare sorte. Grazie. Sai, scrivere in una lettera non è una cosa facile. Sai, mi sento così fragile, le bombe non ti ascoltano. Buonasera, questa quella non mi cambierà. Buonasera, 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 buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. E' una promessa che non manderò, e poi ancora un altro giorno nascerà per noi. Dove si va? Dove si va? Stasvivere la vita intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Come si va? Se vivere da queste parti è come tirare storti. E non riesco più a sorprendermi, e la pazia che dà intorno a me. Io penso che dovrei difendermi, sarà più difficile combattere. Se il viaggio di un amato è il nostro posto a dare la notte. Dove si va? Dove si va? Stasvivere la vita intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Dove si va? Se vivere da queste parti è come tirare storti. Sai, scrivere una lettera, non è mai stato accidente. Bravo! Mauro Rizzo! Marco Enrico al basso! Mauro Rizzo alla voce! Grande Marco Enrico! Mauro Rizzo alla voce! Grazie! Grazie a te!